Nella calda e affascinante estate del 1986, nella periferia di Tokyo, la vivace vita della famiglia Tanaka venne scossa da un evento tragico e inquietante. La tranquilla serenità che una volta dominava nella loro dimora venne spezzata, lasciando spazio a un destino oscuro e imprevisto che avrebbe trascinato la famiglia in un abisso di terrore. Kenji Tanaka, un giovane di 26 anni, dagli occhi scintillanti e lo spirito avventuroso, si trovò al centro di un'enigmatica realtà che sfuggiva alle spiegazioni razionali. Un'ombra di disagio si insinuò nel suo cuore, trasformandolo in uno sconosciuto agli occhi dei suoi cari. La sua metamorfosi fu un viaggio verso una dimensione sinistra e inquietante, dove i confini tra realtà e illusione... Vai sul canale di Sussurri Macabri e iscriviti per continuare questa storia o per iniziarne altre.